Un minimo di spazio, era una speranza mentre ci sono tanti abbracci anche verso la panchina, 1-0 e a questo punto per qualificarsi l'Oxair dovrebbe insegnare 3 gol, mancano esattamente 11 minuti. Rivediamo, ecco Nappi, dicevo posizione regolare, il suo raso a terra affiondato in fila alle stalle di Martini, quindi rete di Nappi al 33esimo.